E' stanno che tutti i vegetali vuole intorno a sé, il Signore è arrabbiato, il diluvio manderà. Voi non avete col paio mio, è bravo il pomodoro, non manca più nessuno, solo non si vedono. Un'aquila reale, il gatto e il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono due leocorni. Cari amici di Non Di Solo Pana abbiamo iniziato cantando questa puntata, siamo qui nel centro estivo di Giffa, non per privilegio ma per comodità, e abbiamo voluto cantare l'arca di Noè e quant'altro, il diluvio, l'arcobaleno, perché oggi caro Don Renato, tu festeggi eh? Ecco le campane che segnano la tua festa, non i tuoi anni, neanche che hai perso un chilo, ma sono 700 puntate di Non Di Solo Pane. Complimenti e auguri! Sì, grazie a te degli auguri, le campane avrebbero dovuto fare appunto 700 rintocchi, perché nel mese di marzo del 2015, tu eri ancora all'asilo nido, noi con Don Giorgio Borroni iniziavamo l'avventura di Non Di Solo Pane, e adesso tra l'altro ce l'hanno un po' copiata, anche il padiglione del Vaticano all'Expo, adesso vediamo se fare causa o meno, comunque non di solo pane, all'Expo saranno 15 giorni, noi sono 15 anni, 700 puntate, speriamo spese bene. Eh vedi Don Renato, tu hai fatto riferimento all'Expo, lei ci sono tanti padiglioni con tante parti del mondo, devo dire che se io penso a queste 700 puntate, anche ad alcune che mi hanno visto partecipare in quest'ultimo periodo, noi siamo stati veramente aperti a tutto il mondo, ricercando non solo la notizia locale o avvenimenti locali, ma respirando a pieni polmoni. Qual è stato il momento che per te è stato più significativo, ad esempio degli incontri che hai fatto e che abbiamo mandato in onda in queste 700 puntate? Ma è difficile sempre fare delle scelte, fare come dei privilegi. Allora ti interrompo per suggerirtene uno, che so che ti ha a cuore, così prendiamo anche insieme all'avvenimento un personaggio. Sono sicuro che Sarajevo ti richiama alla mente molte cose. Sì, erano due, Sarajevo e l'Iraq, senza escludere gli altri. Sarajevo sì, perché siamo andati nel lontano 92, ma poi ci siamo tornati e ci siamo andati anche, forse qualcuno se lo ricorda, con il Vescovo Corti in un pellegrinaggio nel 2000, anno santo. Erano dieci anni di... no, quando è che abbiamo iniziato noi? Anche noi nel 2000. Quindi abbiamo iniziato non di solo pane e poche puntate dopo abbiamo realizzato due puntate di non di solo pane a Sarajevo. Il Papa c'è stato appena adesso e noi stiamo registrando, proprio in questi giorni, in cui ricorre l'anniversario del massacro, qualcuno non vuole che si parli di genocidio, di Srebrenica. 11 luglio 1995, più di 8.000 uomini maschi bosniaci uccisi, deportati e un massacro enorme. Il fatto di essere stati là e di averne parlato, magari anche quando molti non ne parlavano, è sicuramente non un motivo di orgoglio, ma come dire, l'informazione deve essere anche questa. Nello stesso tempo anche l'Iraq, quante volte abbiamo parlato dell'Iraq e quante volte anche qualche nostro amico così in confidenza ci dice ma voi, ma te Don Renato, ma sempre l'Iraq, sempre l'Iraq, adesso pare ci si accorge che l'Iraq è proprio in una situazione brutta e faticosa. Credo possiamo dire di essere stata la trasmissione e anche la televisione che ha parlato di più dell'Iraq in tutti questi anni. Dal 2003, quando siamo stati durante la guerra, al 2008 abbiamo intervistato Monsignor Racco, poi rapito e ucciso. E così un mucchio di altre volte l'Iraq ce l'abbiamo nel cuore e così colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone di Televicio, gli operatori, giornalisti, giornaliste, i responsabili, i coordinatori, tutta VCO Azzurra TV perché ci hanno sempre accolti con amicizia e ci hanno permesso anche di fare la puntata numero 700. Certamente, anche la proprietà, la direzione, tutti. E io ne approfitto alla parola genocidio per dire che anche altre volte siamo rimasti vicini a tante persone che hanno vissuto quell'esperienza in alcuni loro familiari o nella loro terra, la loro storia. Abbiamo mandato delle interviste in onda da Israele, parlando degli ebrei. Abbiamo mandato in onda intervista fatta a Elisa, questa guida che io ho conosciuto in Armenia, mentre eravamo in Armenia e proprio in questi ultimi mesi anche il Papa ne ha parlato del genocidio degli armeni, che è uno di quelli più dimenticati. E non ultimo abbiamo fatto un bel viaggio insieme anche e una bella intervista al nostro Don Masseroni, quando eravamo in Burundi, Burundi che ancora in questi giorni vive il dramma di una guerra di cui non parla quasi nessuno, ma che aveva appena vissuto l'esperienza drammatica di migliaia di uccisioni fra Hutu e Tuzzi. Quindi anche quella terra, Dorenato, è stata patria di queste nostre interviste, l'Africa, che è una terra dimenticata e abbandonata sotto certi punti di vista. Noi che l'abbiamo vissuta, almeno in parte in alcuni paesi, ci ha consegnato molti valori umani e tante storie di cui abbiamo parlato. Poi ti rilancio la palla perché anche in Sud America abbiamo avuto occasione di fare qualcosa, ma ti vorrei chiedere in modo particolare anche qualcosa. Qualcuno dice che Dorenato parli sempre di guerra o pace. Forse ti piacciono i romanzi russi, chi lo sa, l'hai letto Guerra e pace. Però certamente possiamo rinnovare ancora il perché, questo è un argomento che c'è a cuore. Ma perché credo dobbiamo ringraziare anche Papa Francesco che ha sdoganato e ci rilancia alla grande. Cos'è la buona notizia? L'inno che accoglie in questi giorni in Bolivia Papa Francesco è proprio la gioia, la buona notizia del Vangelo. La buona notizia è la vita, la pace, la speranza, la misericordia. Quindi come annunciare la buona notizia senza ricordare chi sta vivendo tragedie? Tra l'altro tu parlavi appunto di Israele, quella che noi chiamiamo la Terra Santa, la Palestina. Un anno fa le bombe su Gaza, più di 2000 morti, di cui 500 bambini, 20.000 a casa distrutte, non ne è ricostruita neanche una. Noi abbiamo mandato in onda interviste anche da Gaza. E quindi il Cristo crocifisso è quello, non sono quelli dorati che giustamente dobbiamo conservare e pulire nelle nostre chiese. Ma il Cristo crocifisso è chi muore sui barconi, chi attraversa il mare, chi scappa da guerre, da genocidi, da situazioni tragiche. In Africa e non solo, prima volando velocemente da Palestina, Siria, Iraq, Israele, abbiamo dimenticato la Siria. Abbiamo intervistato anche qui a Verbagna padre Paolo Dall'Oglio, come dimenticare un amico quando si festeggiano 700 anni, quindi 700 puntate. Noi speriamo che tra qualche puntata ci sia lui ospite e con lui ricordiamo anche tutti i rapiti, ultimamente anche un francescano è stato rapito, ma anche altri di Aleppo. E quindi è una storia infinita, diremmo con Papa Francesco in America Latina, con il Pueblo. È un Pueblo che vuole alzare la propria testa, che vuole tenere la propria dignità e quindi noi siamo con Papa Francesco, pellegrino in America Latina, accanto ai più poveri, accanto non ai potenti, adesso vediamo in questi giorni, forno monetario, banca europea, crisi, la Grecia. Ecco, noi non siamo da quella parte lì, siamo da quelli che fanno più fatica, anche tra l'altro, soprattutto grazie a te, non abbiamo solo fatto grandi orizzonti sul mondo, ma ha incontrato anche persone del nostro territorio che fanno fatica. Col mio ditino, indico le macchine che passano qui vicino a noi di fermarsi un attimino, ma abbiamo quasi finito i minuti, io vorrei ricordare insieme con te anche gli amici dell'Equador, padre Giuseppe che ci ha ospitato, a me e ai ragazzi qualche anno fa, in questi giorni mi ha riempito di messaggi di gioia nel cuore, perché era felicissimo di Papa Francesco che era andato a casa loro e che aveva dato speranza a questo popolo, a questa etnia, così come starà facendo con la Bolivia, come farà col Paraguay. E proprio tu citavi padre Paolo, ricorrono fra pochi giorni due anni dal suo rapimento, noi in tutte le chiese abbiamo messo la sua immagine, preghiamo ogni domenica, perché tramite lui vogliamo pregare per tutti gli altri, non è un privilegio ad una persona, è una preghiera per tutti quelli che vivono il tempo della fatica. Sì, direi che abbiamo cercato di essere vicini al mondo del lavoro, alla solidarietà con chi faceva più fatica, al mondo della sofferenza, della malattia, abbiamo intervistato persone ammalate, medici, abbiamo in questi 700... Don Donato. Don Donato, padre Don Tabarini, insomma. Siamo stati vicini a tante cose, tu hai questo grande merito di portare avanti con fiducia, passione e anche tanto tempo di cuore queste puntate. Senti, Don Renato, mancano due o tre minuti, io quasi quasi ti lascio a concludere da solo, ritorno dai miei bambini, perché ti vorrei dare la possibilità così di entrare nel cuore delle persone che seguono non di solo pane, che attendono questa puntata una volta alla settimana, a volte brillante, a volte meno brillante. È chiaro che se ci sono io è sempre più brillante, perché noi siamo come l'acqua, Donato è naturale, io sono un po' più effervescente, però insieme è un'acqua buona. E quindi, Don Renato, io ti faccio tanti aguri e ti auguro altre 700 puntate in piena vitalità, sempre accanto all'uomo, per una chiesa, come ci ricordava il sinodo, in Mossello del Monte, che è stato ospite delle tue puntate, insieme a Corti e Brambilla, una chiesa fedele a Dio, ma soprattutto amica dell'uomo ogni giorno. Auguri e buona continuazione. Grazie a te, Don Angelo, come si dice in questi casi, quella parte lì la tagliamo, poi della puntata. Puoi lasciare la puntata noiosa. Sì, ecco. Ciao amici di televisione. Grazie, no, concludiamo davvero, è imbarazzante perché non sappiamo chi c'è dietro a questo obiettivo. Tante persone, li saluto tutti, so che ci sono delle persone anziane, fedeli che ci seguono ogni volta, persone in salute, persone ammalate, a volte ci sono anche dei ragazzi giovani che dimostrano di seguire perché sono stupiti anche a volte degli argomenti che tocchiamo, sia di persone giovani, soprattutto grazie a Don Angelo, sia a suore di clausura, abbiamo ricordato appunto i trevescovi, abbiamo ricordato persone ammalate, quella signora che ci ringraziava perché diceva, beh io se ogni anno vengo intervistata e così vuol dire che, come dire, porta bene non di solo pane, è una bella cosa. A volte abbiamo condiviso il pianto di persone, a volte come oggi, perché siamo in estate e molti vivono il centro estivo, abbiamo condiviso la gioia dei bambini, della scuola, della speranza anche durante l'anno di attività che portano vita. Io credo che non abbiamo mai scritto un progetto non di solo pane, che cosa si propone, eccetera. Innanzitutto non abbiamo mezzi, ringrazio ancora VCO che ci ospita tutti perché noi siamo ospiti gratuiti, non veniamo pagati e non paghiamo niente e siamo anche diventati amici con tutte le persone, a volte anche in altre trasmissioni, dal direttore De Paoli e non solo. Quindi un saluto a tutti, grandi e piccoli, un arrivederci. Se avete dei suggerimenti, dopo 700 puntate, magari è difficile cambiare registro, però potete sempre provare a mandarli o a VCO, o a casa mia, a Cesara, o qui a Giffa da Don Angelo e se avete anche dei complimenti da fare, a volte nella vita fanno piacere anche quelli per sapere come si va. Simbolicamente spegniamo le candeline, ma non spegniamo la speranza che vogliamo seminare con non di solo pane. A tutte voi, donne, uomini, piccoli e grandi, come ogni settimana, diciamo, arrivederci alla settimana prossima. Sous-titrage ST' 501